L'accoglienza di migranti in Toscana diventa un modello da esportare inserito nel libro bianco presentato a Firenze, al cinema La Compagnia, da Regione Toscana e Anci. All'interno sono raccolti i principi alla base delle politiche adottate per accogliere gli oltre 13.800 migranti presenti in Toscana, in particolare accoglienza diffusa e standard omogenei applicati su tutto il territorio, presupposti da cui nasce la proposta espressa dal presidente della Regione Toscana Enrico Rossi sul cambio di passo necessario nella gestione dell'immigrazione. Io anche i comuni siano essi stessi responsabilizzati a ricevere risorse adeguate per costruire programmi di accoglienza, di inserimento, di integrazione, programmi lavorativi. Pensiamo quante zone della nostra Regione potrebbero essere anche ripopolate se si vuole. Un modello di accoglienza pensato, ha detto Rossi, per una situazione che non è di emergenza ma è strutturale, da gestire, cioè con una politica che accanto ai bisogni primari del migrante provveda anche alla sua progressiva conoscenza dell'italiano, all'inserimento nel tessuto sociale e lavorativo e alla cura dei bisogni sociosanitari, tutto con un obiettivo preciso. Mettere al centro di tutto la coesione sociale perché è un'accoglienza che abbia, come dire, a creare problemi a tutta la comunità e si porta avanti in modo peggiore con un'accoglienza che non disturba ma anzi migliora un po' tutto. Il libro bianco sull'accoglienza è disponibile sulla piattaforma online Open Toscana.